Buonasera e benvenuto alla night session di mercoledì 18 settembre su Bitcoin con analisi evoluta, un metodo statistico matematico non discrezionale che puoi imparare andando su analisiEvoluta.com e scegliendo di ricevere la guida gratuita. A che punto siamo arrivati? Allora, ti avevo raccontato che l'aspettativa è di avere un ciclo, un terzo ciclo settimanale inverso che ci riproponga salita e che ci permetta di risalire, almeno all'epoca in cui ne parlavo ieri, sopra questi massimi e per un tempo minimo di 6 barre giornaliere. Che cosa è successo oggi? Aspettavamo, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato questa simpatica chiusura del secondo T-3 per prenderci un long, siamo arrivati su questo minimo e poi era già tempo di prepararsi per la Fed. Qui il nostro tecnica 2 iniziava a dare un'idea di salita, poi qui alle 18.30 bellissima finta di ribasso, eravamo in questa situazione e in una situazione del genere con poco tempo la Fed, candela delle 19.15 già partiti. Ok, e che cosa è successo? Il classico gioco a somma zero che c'è molto spesso nel corso del tempo e dei giorni rispetto a quello che poi succede. La Fed ha dato, se hai visto lo speciale che ho fatto in collaborazione con Investimenti BNP Paribas, la live è fatta, caspita, un'ora fa già 1677 visualizzazioni e tanto. Ok, la live è fatta con Riccardo De Signori e Enrico Lanati seguendo proprio la Fed e il discorso di Powell e abbiamo descritto in maniera fedele a quello che ci aspettavamo sin dall'inizio che cosa vedevamo. Per Bitcoin vedevo salita, per il mercato americano, soprattutto l'S&P 500 mi aspettavo appunto un ritracciamento. Vedremo se nei prossimi giorni sarà poi tutto corretto. Se te lo sei perso sai dove andarlo a rivedere. Poi, finita praticamente la diretta, abbiamo fatto questo candelone di ribasso, il tecnica 3 non mi dava un'uscita dalla continuazione possibile di trend a rialzo e stiamo facendo un'altra bar rialzista. Quindi abbiamo avuto rialzo, ribasso, quindi gioco a somma zero per quanto riguarda il discorso della Fed e poi qual è l'aspettativa principale, come ti ho detto all'inizio del video, di continuare a salire. Che cosa sta succedendo? Stiamo provando appunto a far partire in maniera un po' più degna questo terzo ciclo giornaliero. Per cui, tutto come da programma, la Fed ha cambiato di qualche cosa le nostre aspettative? No. Anche perché ci ha dato, nonostante queste candele notevoli, un gioco appunto a somma zero e siamo ritornati prima alle 17.45, alla barra delle 17.45, quando non era successo niente e adesso finalmente stiamo riprendendo il percorso come se nulla fosse successo. Se togliamo queste candele relative alla Fed stiamo andando a salire progressivamente. Siamo usciti dall'acumo, ci stiamo appoggiando costantemente alla media mobile modificata e anche questa originaria di questo canale, come anche le analisi fatte a 45 minuti sulle cripto che nessuno faceva prima. Uh, giusto. Sapete se Skitla ha deciso di far vedere a tutti chi era nel gruppo premium dandomi l'autorizzazione via mail e via video a procedere a far vedere la sua fattura? Perché così chiudiamo il discorso subito. Ci va un secondo, mi dà l'autorizzazione, la ricevo, faccio vedere che è stato nel gruppo premium, che si è formato da me, che copia tutto da me, 45 minuti, come dispone IT-3 e tutto il resto, siamo a posto. Se potete, chiedete, fatemi sapere e mettetelo nei commenti. Sì, ha dato l'autorizzazione, no, non vuole che si sappia quello che è il segreto di Pulcinella. Perché se non ha dato l'autorizzazione, i fatti ormai sono chiari, giusto? Ha qualcosa da nascondere. Chissà che cosa. Il segreto di Pulcinella. In ogni caso, noi che cosa faremo? Da adesso in avanti. Vedremo se ci darà la possibilità di un ingresso a rialzo. Perché? Perché abbiamo chiuso di inverso il quinto giornaliero inverso. Abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per averlo chiuso a 35 barre. Poi effettivamente si può arrivare fino a 44. D'accordo. Ma iniziamo a fare che cosa? Oltre a quello. Da questo massimo iniziamo a... Copiamo e riportiamo. Segnalare che da qui sta... Può essere in partenza il nostro sesto ciclo giornaliero inverso. che ha bisogno di quante barre sotto questo massimo assoluto? Ha bisogno almeno di 5 barre sotto questo massimo assoluto. Abbiamo iniziato la quarta. E se dovessi valutare quando entrare, aspetterei perlomeno la chiusura della prima parte del t-3. Si chiama in gergo il primo t-4, chiusura del primo t-4. Il discorso è che però con movimenti esogeni, voglio dire, di questo tipo, come la Fed, viene scombussolato temporaneamente tutto. Tutti gli indicatori, soprattutto quelli volumetrici, vanno a ramengo. E quindi bisogna attendere il più possibile altre candele per appunto valutare di posizionarsi long per vedere dove arriviamo. Anche perché abbiamo, non abbiamo ancora il tempo per la chiusura di tutto il terzo ciclo settimanale inverso, il mensile inverso, non abbiamo ancora la condizione, quindi noi ci aspettiamo comunque una risalita come minimo sopra questi top, ma non direttamente con il terzo t-3 lo può fare, con tutto il tempo che vuole. Anche perché con una discesa così forte, nulla mi dice, o con questa discesa comunque, nulla mi dice che sia partito o voglia ancora partire un nuovo t-1 inverso, in realtà chiuderlo qui andrebbe benissimo, e da qui abbiamo oltre 24 barre sotto massimo che ci certificano la possibilità che si è iniziato ma mancano gli swing per chi ci deve togliere la visibilità. E quindi attendiamo di vedere se ci daranno un prezzo decente, magari appunto in chiusura, in dodicesima barra, per entrare long, se appunto verremo sostenuti dai volumi, perché l'aspettativa è di tornare appunto come minimo sopra questo massimo. In questo momento in realtà a volte fanno delle schifezze, ma non mi aspetto soltanto un ritorno sopra questo massimo, sopra questa serie di massimi. l'aspettativa principale è appunto assolutamente questa, a meno che non vogliono fare raccordi o altre cose, purtroppo. Sai che c'è? Purtroppo mancano due giorni alle tre streghe, in realtà uno e mezzo. Quindi, attenzione, se sei un trader in erba, non fare trading, lascia perdere, lascia trascorrere questo periodo e poi eventualmente, finito questo periodo, riprendiamo a fare trading con più tranquillità, senza tutte queste finte rialzo con ribasso e di nuovo rialzo, che hanno contraddistinto gli ultimi giorni e un periodo in cui i volumi scompaiono e poi riappaiono sotto forma di HFT e spazzano via chiunque non abbia degli stop loss ben messi oppure sia disgraziatamente nella direzione diversa da quella che indichiamo appunto su questo canale. Direi che è tutto, se hai apprezzato questa analisi e lo sforzo di farla e finirla alle 23.05 prima di fare cena, dopo appunto la live fatta in collaborazione con Ben Pepperi Bar per la Fed, metti un bel like e condividi il canale con tutte le persone che conosci, avvisando ovviamente che questo è l'originale. Buona serata!